Andiamo al bentornato a Dante Boninfante che dopo aver passato una intera estate alla guida della nazionale greca ottenendo grandi risultati tra i quali la qualificazione ai campionati europei viene riaccolto qui al Palaprata. Ci racconti quali sono le tue emozioni da primo giorno di scuola? No è il classico primo giorno di scuola ci sono tante aspettative tanta voglia di fare sono contento di riabbracciare tutti voi tutti i ragazzi dell'anno scorso abbracciare i nuovi e pronti a lavorare da subito. Ecco il vantaggio di avere uno staff rodato che è stato confermato in toto e questo aiuterà anche probabilmente l'ambientamento dei nuovi arrivati. Sì sicuro siamo uno staff affiatato quindi ci capiamo al volo e così sicuramente saranno agevolati i nuovi la comunicazione è una e va sullo stesso binario e continueremo a farlo anche quest'anno quindi siamo pronti siamo pronti bisogna solo metterci tirarsi sulle maniche e iniziare a sudare il meglio possibile e pronti per la prossima stagione. Ecco a proposito della prossima stagione quali sono le tue aspettative personali? Personali come ogni stagione ci sono le aspettative personali mie le aspettative personali dei ragazzi che poi vanno a fare un unico calderone dove vien fuori le aspettative di squadra. Sicuramente il fatto di migliorarsi quotidianamente questa è la cosa principale secondo me perché dopo da qua settimana dopo settimana si creano le ambizioni per cercare di far sempre meglio. Noi lavoreremo come abbiamo fatto l'anno scorso alla giornata cercando di dare sempre sempre il meglio e alla fine vedremo a che punto arriveremo. Ci racconti un po' come sarà il lavoro di queste prime settimane? Partiremo sicuramente subito con lavori di squadra cercando di amalgamare il più possibile il gruppo e dare indicazioni più precise per quanto riguarda il nostro sistema di gioco. Una volta rodato inizieremo a lavorare più che altro su situazioni di gioco particolari quindi la parte iniziale sarà sicuramente di apprendimento per il nostro sistema di gioco principalmente. Perfetto grazie Dante bentornato e buon lavoro. Grazie a voi ciao